Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a questa lettura per il segno dello scorpione, valida sia per coppie che per single. Prendiamo quindi una carta angelica, io intanto vi ricordo che per avere una sessione privata con me potete andare sul sito internet e prenotare da soli, scegliendo dal calendario giorno e ora che preferite, in alternativa potete scrivere un'email e far fare tutto alla mia assistente e la stessa cosa vale ragazzi per chi di voi vuole diventare mio studente e aggiungersi al gruppo, quindi per chi di voi vuole diventare mio studente tra l'altro potete rateizzare qualsiasi corso voi scegliete, che si tratti di tarologia psicoevolutiva, che si tratti di magia d'amore e telepsichia o psicologia karmica ed energetica, potete rateizzare le vostre iscrizioni, quindi chiedete ad angela quali sono le condizioni e scegliete quella più adatta a voi e più comoda per voi, perché comunque avete davvero diverse possibilità. Prendiamo quindi questa carta e cominciamo per il segno dello scorpione. Energia generale, fante di spade, quindi l'energia generale è quella di un mese nel quale sarà molto ma molto interessante comunicare, perché c'è qualcosa da dire e sembra che stiamo solamente aspettando il momento giusto per farla, o magari è l'altra persona che sta aspettando il momento giusto per comunicare. Fante di spade significa proprio questo, aspettare il momento giusto per dire un qualcosa. Questo significa ovviamente anche che abbiamo il tempo, nel caso in cui siamo noi a voler parlare, abbiamo tutto il tempo per pensare a come dirlo, abbiamo tempo per rifletterci, per scegliere le parole da usare o per cercare di capire appunto in quale situazione avremo maggiore possibilità di esprimerci come meglio desideriamo. Sicuramente le energie del mese per il segno dello scorpione sono molto favorevoli alle comunicazioni, ai dialoghi, ai chiarimenti, quindi ecco se sappiamo canalizzare bene questa energia, se riusciamo a sfruttarla al meglio, potremo anche avere l'opportunità di dire qualcosa che magari abbiamo sul gruppone da tanto tempo, quindi ecco potremo anche renderci conto che è veramente arrivato il momento giusto per chiarire alcune cose, per togliercele da dentro e buttarle fuori. Quando noi abbiamo qualcosa che vogliamo dire e questo qualcosa che vogliamo dire non esce perché non troviamo mai il momento giusto, non troviamo mai l'occasione giusta, questa cosa ragazzi rimane dentro di noi come se fosse una sferetta di energia e in base appunto al tipo di emozione che è legata a questo pensiero, questa sferetta di energia può avere una densità diversa, un colore diverso. vi invito magari se ne avete voglia e soprattutto ovviamente io invito i miei studenti a farlo perché comunque è un esercizio utile, vi invito per esempio a riflettere, a pensare su un qualcosa che sentite il bisogno di dire a qualcuno che non avete per qualche motivo ancora detto e vi invito a chiudere gli occhi, a focalizzarvi su questo pensiero e a rispondere alla domanda in quale parte del mio corpo si trova? Cioè dove è localizzata questa energia? Nella pancia? Nel cuore? Nella testa? Nelle gambe? Nelle mani? Dite voi in quale parte del vostro corpo si trova e poi rispondete alla domanda di che colore è questa energia? E qui ovviamente se conoscete il significato dei colori potreste trarre tantissime informazioni. Altra domanda che potreste farvi è che densità ha, che consistenza ha questa energia? Ovvio che ogni risposta avrà un significato ben preciso, questi sono di solito giochini che faccio con i miei studenti o con i miei clienti durante i percorsi di coaching, ma ecco sono molto utili per prendere consapevolezza di noi, del nostro corpo, delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni e sono utili soprattutto per quelle che persone che hanno appunto difficoltà ad entrare in contatto con parti di sé, difficoltà ad ascoltarsi. Quindi vi consiglio in realtà di farlo spesso. Ma adesso andiamo a vedere un po' cosa accade nelle due colonne, in una ritroverete voi stessi, nell'altra ritroverete l'altra persona. Chi si trova sulla sinistra si sente come il diavolo, prova il papa rovesciato, desidera l'asso di spade rovesciato, si comporta come la stella e non dice due di spade rovesciato. Dall'altro lato abbiamo una persona che si sente come il quattro di denari, prova un cavaliere di spade rovesciato, vorrebbe il sette di spade rovesciato, agisce come l'otto di bastoni, è ciò che non dice l'eremita. E beh, a quanto pare però ragazzi non la state usando bene questa energia, non la userete bene, perlomeno molti di voi non la useranno bene. Abbiamo davvero l'opportunità di parlare, di chiarire finalmente un qualcosa di importante e ce la giochiamo così? Cioè, per carità, uno dei due magari se la sta anche vivendo nel modo più costruttivo possibile, ma l'altro no, l'altro sta sprecando un'opportunità importante. Allora, chi sta a sinistra? Chi sta a sinistra sente che il legame con questa persona in effetti è molto forte, è un legame probabilmente per la maggior parte di voi di tipo karmico, quindi si tratta proprio di un qualcosa di abbastanza importante. Però allo stesso tempo questa persona se la sta giocando bene perché sta sfruttando le situazioni, le energie, ciò che accade per ritrovare se stessa e per guarire, per ritrovare il contatto con se stessa, con la propria vera natura. E quindi ecco, questo giochino che vi ho consigliato è proprio adatto a chi sta da questo lato, perché il ritrovare il contatto con se stessi e il capire chi siamo davvero e quindi cosa vogliamo davvero è una parte integrante di quello che accadrà questo mese. Dall'altro lato invece abbiamo una persona che non riesce a viverla così bene, non riesce a essere così costruttivo nei suoi atteggiamenti, anzi, qui vedo una persona piuttosto chiusa, una persona che prova rabbia e che sceglie la solitudine o l'isolamento e sceglie quindi di evitare di parlare. Quindi ecco, mentre uno dei due vorrebbe parlare l'altro non è molto propenso, ma vediamo un po' cosa accade adesso esattamente per le coppie e per i single, per chi è in coppia. Dunque, per chi è in coppia io vedo una situazione nella quale appunto uno dei due, come dicevo, si sta molto focalizzando su se stesso e ha capito, questa persona ha capito che deve fare le cose a modo suo, che nessuno si prende cura di noi se non lo facciamo noi stessi e quindi ecco che questa persona sta capendo che deve prendersi cura di se stessa e che nonostante le mille incertezze, nonostante i mille dubbi che la vita ci mette di fronte ogni giorno, per stare in relazione, per essere in relazione in modo sano con un partner, bisogna prima essere in relazione sana con se stessi ed ecco che qui si va a ritrovare la relazione sana con se stessi, ecco che qui c'è la consapevolezza dell'importanza del legame e si capisce anche di essere dipendenti dall'altra persona, perché chi sta da questo lato si rende conto di essere dipendente dall'altro e non è grave finché noi ce ne accorgiamo, finché ne siamo consapevoli, non è una cosa grave, non è una cosa negativa, è semplicemente qualcosa che va vista, qualcosa che va compresa e solo quando noi la comprendiamo e la accettiamo allora sì possiamo far qualcosa e lavorarci sopra e migliorare le nostre condizioni e infatti questa persona sta realmente migliorando le sue condizioni perché sta cominciando a fare di testa sua, di testa sua, sta capendo che non può fare affidamento sull'altro e quindi sta cominciando a occuparsi di sé, dall'altro lato appunto abbiamo una persona invece un po' chiusa, un po' chiusa, che non si esprime, che non parla, che preferisce star da sola, che preferisce isolarsi fisicamente se è possibile oppure come dire mentalmente ecco non vedo comunicazione, cioè vedo che è un mese, questa cosa è un po' contraddittoria perché è un mese propenso, è un mese molto favorevole alle comunicazioni eppure uno dei due si ostina a non volerlo fare mentre l'altro invece lo desidera e sta aspettando il momento giusto per farlo, sta solo aspettando l'occasione, invece chi sta da questo lato no, chi sta da questo lato non è molto propenso alla comunicazione, ora sempre per chi è in coppia, se questa persona è così perché è arrabbiata o si sente delusa dall'altro allora ecco che questo potrebbe avere una spiegazione perché in effetti queste sono carte che a volte si ritrovano in chi è deluso da qualcuno e deve accettare la realtà dei fatti e quindi si isola un po' per riprendersi, per fare mente locale e per appunto elaborare un po' quello che è successo, emozioni negative comprese, rabbia, rancori, malumori, quindi ecco se è accaduto qualcosa e questa persona è arrabbiata ovviamente sta prendendo tempo o comunque sta cercando nel modo migliore di elaborare. Se invece queste carte non parlano di qualcuno arrabbiato, non è successo nulla che possa aver fatto arrabbiare questa persona ma si tratta di questioni caratteriali, beh mi dispiace ma vedo proprio un brutto carattere, vedo proprio una persona con la quale non è semplice avere a che fare, non è semplice, non è assolutamente semplice stare in relazione con qualcuno che sia sempre così, quindi ecco per chi è in coppia ragazzi, per chi è in coppia, io non so se voi state da questo lato o da questo lato, se siete da questo lato voi state riuscendo a guarire voi stessi nella relazione, anche grazie alla relazione, voi state riuscendo a cogliere queste energie, queste situazioni proprio per ritrovare il vostro equilibrio, quindi va benissimo. Se voi invece vi ritrovate dall'altro lato e siete arrabbiati per qualcosa, sappiate che comunque il vostro partner sta guarendo se stesso, sta scoprendo delle parti di sé, sta cambiando, sta migliorando in qualche modo, quindi ecco che questo miglioramento potrebbe portare ovviamente a degli atteggiamenti di tipo diverso nei vostri confronti e quindi ecco dategli il beneficio del dubbio perché questa è una persona che sta davvero facendo un grande lavoro. Per quanto riguarda invece i single, qui vedo due persone che di certo non si metteranno insieme questo mese, vedo due persone che purtroppo si trovano in una fase nella quale una delle due vorrebbe parlare e comunicare mentre invece l'altra preferisce assolutamente non farlo, preferisce proprio chiudere tutti, preferisce chiudere i contatti, preferisce chiudere i rapporti, preferisce piuttosto vivere le sue emozioni ed elaborarle, credo che appunto chi sta da questo lato per i single sia un po' deluso da qualcosa, si tratta di una persona o delusa o di una persona ragazzi a cui non interessa assolutamente nulla dell'altro, quindi ecco se questo è il caso, se si tratta di una persona a cui non interessa nulla dell'altro, bah amen, non c'è veramente nulla da fare, però io credo che per la maggior parte di voi qui si tratti di una persona delusa, una persona che ha vissuto delle emozioni negative e che si è arrabbiata di conseguenza a queste emozioni negative, si è sentita magari tradita, trattata ingiustamente, abbandonata, ecco non so esattamente cosa, però sicuramente è rimasta delusa e sicuramente adesso sente il bisogno di isolarsi e di riflettere e anche di scaricare la rabbia, perché mi sembra proprio che questa persona stia scaricando la rabbia in altri modi, chi sta di qui invece sta comprendendo, sta capendo, chi sta di qui sta davvero capendo e pur non sapendo cosa fare, perché obiettivamente chi sta di qui non sa cosa fare, però vorrebbe comunque avere l'opportunità di parlare e di chiarire, chi sta qui vorrebbe un chiarimento e questo chiarimento potrebbe in effetti fare molto bene entrambi, perché questa è una persona che sta riconoscendo l'importanza del legame, sta riconoscendo che si tratta di un legame talmente tanto forte che appunto può essere considerato un legame karmico per qualcuno, un'anima gemella, un'anima compagna, una fiamma, ecco qualunque tipo di legame karmico, ragazzi qui magari chiedo ai miei studenti un attimino di fare attenzione a questa cosa, noi su questa colonna abbiamo il diavolo e la stella, che sono due lame karmiche, quindi ecco che in questo momento per questa persona il karma sta agendo e sta avendo l'effetto di insegnare qualcosa, sta avendo l'effetto di portare alla luce qualcosa di importante, che va compreso, che va accettato, quindi ecco che io credo che questa persona si stia rendendo conto di quello che ha dall'altro lato, di quello che sta perdendo, di quello che potrebbe avere, si sta rendendo conto di quello che ha fatto, degli errori che ha fatto, anche perché questa persona non riesce a stare senza questa, quindi ecco che la distanza, la lontananza pesa, pesa e mette in luce tutti i propri errori. Ok, a questo punto vediamo che cosa accade nell'interazione fra il segno dello scorpione e tutti e dodici i segni zodiacali, questa parte ragazzi è specifica per i single, però consiglio anche chi è in coppia di guardarla perché potrete trovare delle informazioni molto utili, soprattutto se ha state interagendo con diverse persone in questo periodo, quindi volete sapere appunto con ciascuna persona che cosa accade, come si stanno muovendo le energie, come potrebbe andare e ovviamente ragazzi se volete una sessione privata andate sul sito internet, scegliete magari il pacchetto che preferite, che comprende coaching o analisi karmica, oppure potete prendere una sessione singola e se volete diventare miei studenti uguale, guardate, andate a guardare sul sito il programma di tutti i corsi che noi abbiamo a disposizione, scegliete quello più adatto a voi, quello di cui voi avete bisogno in questo momento, ma vediamo un po' quindi che cosa accade nella combinazione tra scorpione e i dodici segni, ok, quindi per chi di voi ragazzi ha a che fare con un ariete, potrebbe esserci anche un nuovo inizio con l'ariete, quindi non demordete se siete davvero interessati, il toro invece vuole una pausa per adesso, con i gemelli state per avere la risposta che aspettate, con il cancro c'è chiaramente un contratto karmico in gioco e c'è chiaramente un insegnamento da apprendere prima di poter andare oltre, con il leone potrebbe diventare o potrebbe essere un'avventura, una storia di sesso, con la vergine non sembra che ci sia previsto un futuro fra di voi, con la bilancia sappiate che la bilancia sta ancora aspettando un vostro ritorno e se non lo farete voi lo farà lei o lui, con un altro scorpione dovete prendere una decisione, con il sagittario è necessario trovare l'equilibrio fra voi, con il capricorno dovete semplicemente smettere di preoccuparvi perché le cose si risolveranno da sole, l'acquario sta male per voi e non sa cosa fare, il pesci prova delle emozioni però ha delle difficoltà ad esprimerle in questo momento, quindi adesso vediamo un po' che cosa ci dice la carta angelica quattro d'aria, eh sì è un'altra carta che parla di chiusura ed è una carta che appunto ci dice che è arrivato il momento di riposare, fare una pausa, fare una vacanza possibilmente prendervi un po' di tempo per voi prima di appunto decidere, potrebbe essere per esempio un buon momento anche per meditare, per passare del tempo in totale rilassamento o per praticare vera e propria meditazione, quindi ecco sembra che voi abbiate bisogno di risposte e queste risposte le potete trovare nella calma e nella serenità. Ovviamente ragazzi se volete una sessione privata per capire meglio il vostro caso specifico inviatemi una email, andate sul sito e altrimenti ci vediamo alla prossima.